Come è Pina Monti, così giovane e avere delle risposte come quelle che hanno trovato questa sera? Sono contento soprattutto per il ragazzo perché se lo merita, lo conosco da poco, ma ho trovato subito un ragazzo pieno di qualità tecnica, fisica e soprattutto morale. E credetemi che non è facile trovare nei giorni nostri ragazzi giovani con ancora l'umiltà giusta, la serietà, la testa sulle spalle, Andrea, tutto questo, quindi credo che da questa base lui possa costruirsi un futuro importante. Grazie.